Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi parlerò di tecniche pittoriche e più nello specifico affronteremo il tema del graffito. Il graffito è sicuramente una delle tecniche pittoriche più antiche al mondo perché altri non è che un disegno eseguito incidendo con una punta combinata una superficie come la pietra, la terracotta, l'intonaco, il muro. La parola graffito deriva dal latino graffium che vuol dire appunto graffiare. Le prime testimonianze artistiche le troviamo sin dalla preistoria nelle pitture rupestri ma successivamente fu impiegata dai greci, dagli etruschi, dai romani fino ad arrivare ai giorni nostri. C'è da dire però che questa tecnica pittorica subisce una certa evoluzione nel corso del tempo. In epoca contemporanea si parla del cosiddetto fenomeno dei graffiti art oppure della più recente street art che come sapete si distanzia notevolmente dal significato del graffito vero e proprio ovvero quello di graffiare una superficie. In questo caso il graffito moderno quindi di epoca contemporanea si esegue utilizzando bombolette spray e di solito si realizza su superfici come i muri degli edifici oppure i convogli dei treni. Seguendo i principi base di questa tecnica cioè quindi della tecnica originale quella riferita al periodo primitivo preistorico ma anche quella utilizzata dagli etruschi dai romani insomma dei greci è possibile realizzare in modo molto semplice un graffito. Tutto quello che dovete fare è procurarvi innanzitutto un foglio io ne utilizzerò uno piccolo come vedete e il foglio dovrà essere di circa 220 grammi quindi un fabbriano 4 o un foglio bristol andranno più che bene. Poi vi serviranno dei colori a cera vanno benissimo quelli che utilizzano i bambini uno stecchino oppure un chiodo insomma qualcosa che abbia una punta per graffiare e poi del colore acrilico nero ma va bene anche la tempera se non ce l'avete va bene anche la china. Allora la prima cosa da fare sarà quella di stendere il colore su tutta la superficie del foglio e come coloro io intendo i colori a cera quindi voi potete scegliere di utilizzare un solo colore il colore che preferite oppure utilizzarne più di uno oppure tutti a vostro piacere dopodiché il secondo passaggio sarà quello di ricoprire di nero tutta la superficie del foglio che abbiamo precedentemente colorato con i pastelli a cera a cera. Grazie a tutti. 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 Come vedete il disegno del mio cavallo è terminato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.